Una bambina di 22 mesi ed entrambi i genitori in carcere. I giudici belgi temono che l'ex vicepresidente del Parlamento europeo Eva Caili e il suo compagno e assistente Francesco Giorgi possano inquinare le prove e perciò restano in prigione, anche in considerazione del fatto che i magistrati hanno respinto la richiesta dei legali di Caili di libertà con braccialetto elettronico. La signora Caili è sola in una cella di prigione. Purtroppo anche la sua bambina di 22 mesi è sola. È Natale e non c'è nessuno. Eva Caili sente che sta vivendo un disastro. Per favore, rispettatela, dice il suo avvocato Dimitra Koupoulos. Detenuta dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta Qatargate, il maxigiro di mazzette per oltre un milione di euro, presuntamente corrisposte a parlamentari europei attraverso una rete di contatti con emissari marocchini e catarini, Eva Caili si professa innocente e pronta a collaborare con gli inquirenti. Per ora resta in detenzione.